L'Alexander ha fatto cose migliori. Cerchio e seno attraverso NT, guida fisica Antonello, a cura di VB Antonello. Anche nel produrre apporti ci sono differenze tra le diverse entità. C'è quella che è molto brava in questo genere di fenomeni e c'è quella che non riesce affatto. L'è una questione di bravura e di imparare le cose. L'Antonello negli apporti ha dovuto imparare tante cosine. L'Alexander ha fatto cose migliori. Mi capite? Si deve imparare anche qui da noi. Non crediate che si stia a suonare l'arpa sopra una nuvoletta. Anzi, c'è più azione nella dimensione senza materia che nella vostra, perché voi siete limitati in tante cose. Nei movimenti, nello spazio, nel tempo, noi no. Sì, indubbiamente da queste parti c'è molta più azione. Grazie. 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 Grazie.